Salve a tutti i Blazers e benvenuti in questo nuovo video, video dedicato quest'oggi alla 1.15. Quindi sì, è un video sugli aggiornamenti, ma attenzione, non è uscita la 1.15, è appena uscita la 1.14 e stanno lavorando alla pre-versione della 1.14.2, quindi ragazzi siamo ben lontani dalla 1.15. Ma questo video lo volevo fare per svariate ragioni e da un po' di settimane, soprattutto in virtù di alcune novità uscite negli ultimi giorni e anche per rispondere ad alcune vostre domande e curiosità che mi arrivano nei commenti. Prima di tutto è bene specificare che la 1.15 al momento è un miraggio molto lontano. Infatti si parla di 1.15 per l'evento del 28 settembre in live, dove probabilmente verrà svelato un trailer come fu con la 1.14 e la 1.13 nei passati anni. Ma ragazzi, prima di parlare di questo, voglio subito togliere un dubbio, perché molti di voi mi hanno parlato, mi hanno detto di parlare di una cosa e voglio subito chiarire questo piccolo passaggio. Infatti, nel trailer di Rilascio della 1.14, trailer molto carino dove si vede il personaggio che va nel villaggio, viene attaccato dagli illager, eccetera, eccetera, dopo che il personaggio vince sugli villager, si vede qualcosa di insolito. I villager festeggiando lanciano in aria oggetti, uno di loro lancia in aria la bluestone, una redstone, ma di colore blu. Questa cosa ha subito mandato in fermento molti utenti e soprattutto gli amanti della redstone, perché l'idea di avere una redstone di un altro colore, dove magari puoi fare dei circuiti incrociati o che non si connettono e quindi ottimizzare meglio gli spazi, insomma, sarebbe stata una cosa molto figa, ma c'è un grosso mando. È stato confermato ufficialmente che non ci sarà la bluestone, o per meglio dire, non è quella una prova, non è un teaser, non è nulla di tutto ciò. Poi magari un giorno la aggiungeranno anche, ma non per questo motivo qui. Che cosa succede? Succede che questo trailer è stato realizzato da un'azienda esterna a Mojang, che ha lavorato sulle novità, doveva mostrare queste novità dell'anno 14, e si è lasciato sfuggire un piccolo problema. Infatti, nel renderizzare il video, è successo che hanno dato il colore sbagliato al modello della redstone, rendendola blu. Quindi è un errore umano, non era nulla di voluto, e purtroppo non sarà una feature della 1.15. Questo ve lo dico subito, perché è bene che sia chiaro, e mi dispiace dirlo, però ragazzi, detto ciò possiamo voltare pagina e parlare delle cose concrete. Infatti, prima di addentrarci nella tematica della 1.15, o la presunta tale, che cosa succede? L'evento che ci sarà in live il 28 settembre 2019, quindi dopo l'estate, segnerà l'arrivo del trailer, l'annuncio della 1.15, e poi probabilmente nelle settimane successive avremo anche i primi snapshot, e così via la solita cosa. Ma non si era mica detto che la 1.14 sarebbe uscita in primavera, e quindi da lì al prossimo Minecon poteva esserci un'altra versione, e quindi due versioni durante l'anno? Sì, dov'è finita questa cosa? Boh, o forse potremmo capire il perché non sarà così. È strano che da qui a settembre non ci saranno novità in Minecraft, è dannatamente pericolosa una cosa del genere. Ma ricordiamoci che hanno appena annunciato Minecraft Earth, che uscirà in Closed Beta quest'estate, e quindi ci sarà un altro gioco a, diciamo, distrarci da i mancati sviluppi, le mancate novità nella versione principale. Inoltre, non dimentichiamoci anche di Minecraft Dungeons, perché bisogna anche parlare di quello, e lo faremo in questo video. Ma prima andiamo a vedere altri dettagli. Quindi la 1.15 si farà tendere molto. Gli sapremo perdonare per questa attesa? O per tradurla meglio? Sarà una versione all'altezza? Tutto quello che sappiamo, in realtà, deriva da due piccoli indizi. Anzi, tre. Se vogliamo considerare i due indizi, questi due scatoloni qui. Perché nella 1.14, come ricorderete benissimo, hanno aggiunto un sacco di blocchi funzionali che danno anche il mestiere al villager. Quindi definiscono il mestiere del villager. Tra cui tutti questi. O per meglio dire, alcuni di questi, perché alcuni c'entrano poco. Ma due di questi, voglio dire la Fletching Table e la Smiting Table, non hanno una GUI. Non sono funzionali. Perché questo? Perché ci hanno detto che la loro funzione verrà introdotta nel prossimo update per riuscire ad utilizzarli nel pieno del loro potenziale. Che cosa significa questo? Se fosse una novità piccola, come per dire il telaio o lo stonecutter, potevano farlo subito. Ma probabilmente nascondono qualcosa di grosso. Un'interazione con delle novità, delle meccaniche, così grandi da non poterle introdurre nella 1.14, perché fanno riferimento probabilmente non a una piccolezza, ma al tema stesso della 1.15. O per meglio dire, trovo che questo sia l'unico modo sensato di interpretare questa scelta. E quindi possiamo notare che in una tavola abbiamo degli attrezzi appesi. Questa tavola è la tavola degli attrezzi. È il blocco di Minecraft che riguarda gli attrezzi, così come l'altro ha un centrino, all'arco, alle frecce, ed è il tavolo destinato all'arceria. La conferma totale a questa cosa è che se noi mettiamo di fianco a questi blocchi i villager, vediamo se assumono il lavoro anche se non stanno alla stessa altezza del blocco. Ok, lo stanno facendo. Notiamo che lui con la grindstone è il fabbro, il fabbro delle armi. Lui infatti vende le spade, venderà le armi. Il secondo, con la fornace blast, si occupa delle armature, perché smelta i lingotti, quindi crea le armature, forgia le armature. Il terzo, con la fletching table, è il fletcher. È proprio un villager dedicato all'arceria. Ci vende la selce per fare le frecce, i bastoni, smercia le frecce stesse. Nella fase finale dà anche le frecce imbevute di pozzoni, per dire. E l'ultimo è il toolsmith, quindi il fabbro che si occupa degli attrezzi. Tutto ciò lo ricolleghiamo a una notizia che c'era stata data, se non erro addirittura nello scorso Minecon, dove tra le varie domande fatte agli sviluppatori si chiedeva se aggiornerà mai di nuovo il combat system dopo che nella 1.9 lo avete rivoluzionato, la risposta era sì. La risposta era sì, ragazzi. Ci sarà prima o poi un aggiornamento del combat system. Quindi, potrebbe essere che la 1.15 sia una nuova versione della 1.9? Quindi è una nuova versione dedicata al combat system? La risposta è che potrebbe essere. Potrebbe essere perché questi due strumenti si occupano dell'arceria, quindi di buona parte del combat system anche con l'aggiunta della balestra diventa molto importante. Dall'altra parte gli attrezzi. Perché proprio gli attrezzi non lo so, però il tema sembra quello. Quindi, magari un aggiornamento che vada a abbracciare tutti gli utensili di Minecraft, dalle armature alle spade all'arco agli attrezzi stessi. Potrebbe essere un update di questo tipo, che potrebbe introdurre nuovi minerali? sarebbe figo, ma dubito fortemente, potrebbe introdurre nuove meccaniche di combattimento, questo lo spero tantissimo, e probabilmente qualche nuova funzione tanto da giustificare un blocco dedicato alla lavorazione degli attrezzi, cosa che possiamo fare e lavorarli in qualsiasi modo con gli altri attrezzi, quindi non si sa che cosa servirà a questo blocco, non ne abbiamo idea. Ma non finisce qui, vi ho parlato anche di Minecraft Dungeons, ragazzi, perché Minecraft Dungeons non l'hanno abbandonato, infatti, di recente si è parlato anche dopo l'annuncio di Earth dei dieci anni dell'anniversario eccetera, tra l'altro, piccola chicca, Minecraft ha superato Tetris ed è diventato il videogioco più venduto di sempre, cosa incredibile, mega applauso a Minecraft per questa cosa. Minecraft Dungeons è ancora in lavorazione e ci hanno detto che è arrivato a un punto tale che gli sviluppatori pensano che a breve rilasceranno qualche info, qualche novità, dopo tutti questi mesi di silenzio. Non so quanto sia questo breve, però incrociamo le dita perché magari presto sapremo qualche news, magari nei prossimi mesi se ne tornerà a parlare, magari alle 3, con la Microsoft, chi lo sa, insomma, speriamo in bene e avremo presto nuove informazioni anche di Dungeons, Dungeons che si ricollega molto a questo discorso. Tornando al trailer che invece descriveva l'evento live che ci sarà il 28 settembre, alla fine del trailer vediamo dopo l'esplosione di un Creeper il cartello con la data e poi si avvicinano alcuni mob. C'è una tartaruga, due pappagalli, un maiale sporco di fango con un fiore in testa che è preso da Minecraft Earth, lo abbiamo già visto, e poi un altro mob che non si è mai visto, o per meglio dire, si è visto una volta sola. Una sorta di mob chiave. Quella chiavettina lì è un mob di Minecraft Dungeons, lo abbiamo già visto nel trailer di Minecraft Dungeons. Cosa significa questo? Perché sicuramente come minimo ci stanno dicendo che ci sarà Minecraft Dungeons anche nel prossimo Minecon, quindi se ne parlerà, ma non è che Minecraft Dungeons e le novità che porta avranno ripercussioni anche su Minecraft Vanilla? Perché se ci fosse un update del Combat System, potrebbe essere che Minecraft Dungeons che aggiunge tutte quelle armi, il martello da guerra, la staffa da mago, e tutte quelle cose, abbia in qualche modo un impatto. Magari anche quel mob stesso verrà aggiunto nella 1.15 oltre che in Minecraft Dungeons e forse per quello lo hanno messo lì. Piccoli indizi, piccole chicche che potrebbero dire davvero tanto. Non ci sono molte informazioni, ma voglio dire un'ultima cosa, una cattiva notizia questa volta, che potrebbe però confermare un po' in qualche modo l'update del Combat System, il secondo update del Combat System. perché l'update più gettonato per la 1.15 era un altro, lo sappiamo benissimo, era il Cave Update, l'aggiornamento delle caverne. Purtroppo è stato dichiarato da una detta ai lavori di Mojang che il prossimo update non aggiornerà le caverne. Mi dispiace un sacco perché io sono il primo che ci sperava tantissimo, ma a quanto pare gli aggiornamenti che stanno portando erano così tanto in lavorazione da così tanto tempo che non sono ancora riusciti ad accontentare la community visto che la richiesta di aggiornare le caverne è uscita fuori abbastanza di recente, diciamo l'anno scorso, e quindi ancora non sono in grado di implementarlo. Cosa vuol dire? Potrebbe essere che l'aggiornamento delle caverne sarà la 1.16 forse nel 2020, che è un sacco di tempo ragazzi, lo so, è un sacco di tempo, ma dall'altro canto questa notizia toglie un grande tema per la 1.15 e potrebbe lasciare spazio a questo Combat Update 2.0. Niente ragazzi, questo è tutto, volevo aggiornarvi un po' sulla situazione, smentire alcune voci, confermarne delle altre, farvi notare qualche chicca, non c'è ancora molto di cui parlare e da mostrare, ma appena ci sarà, ci sarò anch'io per parlarne sul canale, così come ci sarò per i due giochi e a questo punto anche Minecraft Dungeons che deve uscire quest'anno quindi aspettiamolo, insomma, voglio capire quando uscirà, lo voglio provare assolutamente e lo porterò sul canale. Fatemi sapere cosa ne pensate di tutto ciò, noi ci vediamo presto, un saluto da AaronBlaze, ciao a tutti!